Siamo a Roma per una due giorni sull'infezione da citomegalovirus e sulle problematiche dei pazienti sottoposti a trapianto. Ne parliamo con il professor Fausto Baldanti e la professoressa Tiziana Lazzarotto. Professore, quali sono le tecniche diagnostiche innovative applicabili all'infezione da CMV nei trapianti? Le infezioni da CMV sono sempre una sfida sia per la diagnosi che per il monitoraggio, in quanto è un virus che può dare diverse manifestazioni cliniche a livello di diversi organi e in diversi apparati. Quindi per fare una corretta inquadramento clinico del paziente sono necessaria una combinazione di saggi e questi vanno dall'identificazione molecolare del DNA circolante nel sangue, alle tecniche di verifica e quantificazione della risposta immunologica T cellulare nei confronti del virus che servono poi a stimare il controllo a lungo termine spontaneo dell'infezione da parte del paziente, per arrivare al sequenziamento del genoma che ci serve per inquadrare le infezioni resistenti con l'identificazione di mutazioni che possono essere associate al fallimento farmacologico. Quindi è tutto un complesso di tecnologie che oggi sono disponibili perlomeno nei laboratori dei grandi centri trapianti e che vanno utilizzate in combinazione, in concerto sempre col clinico sulla base della tipologia di trapianto da un lato e della presentazione clinica del paziente dall'altro lato. Il CMV è una sfida da sempre, come ho detto, perché è uno dei maggiori virus opportunisti e quindi si sviluppa quando il paziente è immunocompromesso e a seconda del tipo di trapianto questo livello di immunocompromissione è differenziale, non è statico nel tempo ma è dinamico e quindi ancora una volta l'approccio multidisciplinare a questo inquadramento è fondamentale. Non è possibile eseguire una buona diagnostica di laboratorio senza una corretta domanda clinica e quindi un contatto costante e consistente con i colleghi di reparto. Professoressa, parliamo delle tecniche di monitoraggio e le diagnosi delle infezioni da citomegalovirus in relazione ai nuovi farmaci? Sicuramente, quindi per il citomegalovirus, sia per la diagnosi che per il monitoraggio, dobbiamo utilizzare delle tecniche, dei test differenti rispetto a quelli che utilizzavamo nel passato perché i nuovi farmaci rispetto ai farmaci tradizionali hanno nuovi target, quindi hanno un controllo della replicazione virale in una fase più tardiva e di conseguenza la diagnostica deve adeguarsi a quelle che sono le nuove molecole, quindi cercare di ritrovare delle nuove molecole che abbiano una maggiore correlazione con la replicazione in atto quando i pazienti vengono sottoposti a questi nuovi farmaci. Quindi, classicamente, il test gold standard fino all'era dell'introduzione delle termovir era il test della dianemia, cioè il ritrovamento e la quantificazione del DNA virale nel sangue durante la fase di trattamento, quindi noi monitoravamo questa fase attraverso questo test e verificavamo quando il test era in grado di annullare completamente la replicazione virale. Questo test oggi non è più sufficiente, quindi abbiamo dovuto pensare ad altri test. Inizialmente non avevamo, diciamo, un'idea di quello che fosse realmente l'impatto dell'utilizzo di questi nuovi farmaci e di conseguenza abbiamo accompagnato a questo test dei test che noi conoscevamo, chiamiamoli test tradizionali. Questi test ci permettevano di identificare davanti a delle positività se queste positività erano correlate ad una replicazione attiva. E questi test che cos'erano? Sono stati il test della viremia, cioè identifichiamo particelle virali infettanti, e il test di un chiamato test della DNAsi, cioè andavamo a verificare durante la fase di attività del farmaco se le molecole liberate del DNA virale erano molecole associate ai virioni o molecole libere, dovute proprio alla degradazione grazie al farmaco. Quindi questi sono stati cambiamenti importanti. Oggi quello che possiamo dire, ed è veramente un risultato importante, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti dal punto di vista, diciamo, di laboratorio, della diagnosi e del monitoraggio. Abbiamo una nuova molecola, un nuovo target. Questo test, chiamato appunto il test della RNAmia, identifica durante il trattamento se sono presenti, se appunto sono presenti delle molecole di RNA messaggero che vengono prodotte, se queste sono associate ai virioni, noi abbiamo un test che ci permette di identificarlo. Grazie a tutti.